Forte ha aggiunto la mia arma preferita, rimani fino alla fine per scoprire di che item si tratta e parleremo anche un pochino delle novità in arrivo in queste settimane ragazzi quindi sarà un video abbastanza interessante Partiamo dicendo che Disney è stata hackerata ragazzi e come sapete c'era una grandissima collaborazione con la Disney in futuro quindi abbiamo ricevuto qualche piccolissimo leak ad esempio il creatore Scott Pilgrim di questo cacchio di cartone che non conosco ha detto che potrebbe essere su una collaborazione con Forte tu vai a casa Godo in più la collaborazione con i Pirati dei Caraibi è stata confermata per il 19 luglio quindi arriverà a brevissimo l'arma di oggi è collegata ai Pirati dei Caraibi se posso dirlo ragazzi anzi è collegata ai Pirati in generale molti di voi avranno già capito di cosa si tratta tu muori Godo era fermo immobile questo qua mi ricorda la mappa che è uscita ragazzi English or Spanish dove a un certo punto parte il suono del meme e devi stare fermo molto molto divertente questo è il codice in più abbiamo dei costumi scartati di questa collaborazione dei costumi scartati di Peter Griffin interessante è questo mini video del trailer che doveva esserci dei Griffin molto molto figo se devo essere sincero ed è stato scartato nel 2020 facciamovi capire la collaborazione con i Griffin era in lavorazione da 4 anni prima di arrivare quindi l'epic quando fa qualcosa di serio ci mette veramente veramente tanto 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 impegno Fortex dispositivi Apple è sempre stato confermato solo in Europa però se qualcuno quindi vuole giocare dal telefono ragazzi così volete farlo a breve che può essere utile magari se siete in vacanza e volete ottenere ricompense o cose così shoppare qualcosa può sempre essere utile avere Fortex sul cell phone è stato cambiato il loadout di Fortex reload in questa maniera rimosse il pompa a leva la mitaglietta tattica e la deagle la mitaglietta tattica e sono state aggiunte il pompa del tono schifo la mitaglietta tattica e caricatore bella pistola mammut bellissima ragazzi quindi un cambio molto alla fine ho tutto delle armi e riaggiunte armi praticamente dentro e poi abbiamo l'arma che è stata aggiunta in questa aggiornamento è che è il punto principale del video vediamo quando la troviamo ragazzi ok compriamo la mitaglietta addio mio questo mouse buggato mitaglietta blu ragazzi e devo essere sincero io spero sempre di non trovare l'arma dell'aggiornamento all'inizio così c'è un po' più di suspense nel video mio dio cosa l'ha raggiunto qua non c'è assolutamente niente però nemmeno trovarla a fine partita siamo in 54 ancora niente come è possibile ragazzi ok sfogherò la mia rabbia su queste stupide guardie morite 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 mori che a me a quanto pare questa arma ragazzi è stata anche aggiornata quindi è diventata ancora più potente sono curiosissimo di trovarla sono carichissimo di trovarla questa persona non è scombo e muori ok perfetto adesso abbiamo anche le previsioni della tempesta vorrei più una previsione per delle armi fiche ecco le armi fiche intendo l'arma che stiamo cercando dove cacchio sta potrebbe essere che sta qua al POI di Jack Sparrow ragazzi vediamo magari la troviamo qui no magari qui ma è possibile che l'ha fatta così rara se vi dico è un'arma verde è un'arma verde muori 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 spondato? non ci credo al primo punto in piedi sto qua vai muori ah 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 non aveva ovviamente l'arma che cerchiamo aveva sto bellissimo combat leggendario che è ok fichissimo però non è quello che vogliamo o meglio combat mitico scusate ecco la acqua ecco la acqua ecco la acqua mira nous la pistola focile eccola qua ha che adesso sapete che fa non lo sapete che fa non togli cioè togli il danno da caduta ragazzi quindi ancora più devastante ancora più gibti bum guardate qua bum danno da caduta tolto Andiamo a eliminare un po' di persone, ragazzi Andiamo a eliminare un po' di persone, dai Che so carico Per questa posta fucile Ok, fin là non arriva Non ci credo che sia jumpato davvero Ma davvero Oddio mio, quanto è difficile, ho troppa mobility Mi fai prendere la jump, grazie Bon, 90, ragazzi Quanto è bella quest'arma Quanto è bella quest'arma, ragazzi Voi non avete idea, poi col nitro Cioè, andiamo addosso alle persone E gli sfondiamo questa pistolotta Eccola qua, eccola qua Eccola qua Sono un bidone, ufficiale Però vabbè, noi dopo abbiamo il combat che sbaglia tutti E dove vogliono andare Ma dove vuoi andare Ma dove vuoi andare Ragazzi, ci mancano 17 persone Quindi 16 persone, abbiamo 6 kill Possiamo arrivare fino a 22 eliminazioni Io le faccio tutte e 22 Con il mio nitro infinito Ok, non sto trovando nessuno, ragazzi Cioè, mi è spawnato il rift Ok Stranissimo, ragazzi Non ho capito cosa cavolo sia successo Onesto Non l'ho capito Solo che c'è un botto di gente qua vicino Finalmente, finalmente, finalmente Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua No, stai in macchina Che noioso, mamma mia Ma stumfano Per favore, mi fai Godo Uno di vita Mamma, come godo, ragazzi Nooo Da quando sta la Tommy Gun in gioco, scusami Quello aveva palesemente la Tommy Gun Da quando è in gioco? Ma perché mi fa... Oh, Dio mio, non so più buildare Non ci credo, ragazzi Liscio tutto Questa pistola Ma questo non mi ferma Non mi ferma Haha Godo, macchina fregata Ok, eccolo Qua Boom, Godo Fittato 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 Ma dove vuoi andare, Scott? Ma vattene a Milano a fare il concerto E muori Godo Oh, ma tutto sto danno quando me l'ha fatto? No, scusami Tipo, quando me l'ha fatto? No, no, va bene 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 Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Sette Sette Oh, mio Dio Ma quanto danno fa la tempesta? Non me l'ho raccorto Ci muore Cinquantacinque Va bene Come cazzo? Un'altra partita me la devo rifare, ragazzi Perché perdere così male No, no, no Non ci sia stato voluto la mia pistola fucile Devo per forza ottenere Una Victory Royales Muori, grazie Oh, mio Dio Le avevo fatto 99, ragazzi Ti giuro che se mi one-pumpava Dopo avergli fatto 99 Probabilmente bestemmiavo Mi è qua, piccione Oh Muori Godo Aveva pure la crown Give me the crown Oh, c'è un tipo C'è un tipo C'è un tipo C'è un tipo Ah, morto Oh, aveva pure full shield Sto tipo Godo Mamma mia Sfondatissimo Va bene C'è tipo Ok Ma vai a quel paese Vai E non ci provare mai più Muori Assurdo Non è stato niente Ma com'è possibile Che i pugni funzionano a tutti Tranne che a me Scorsa partita Non ho fatto uno di danno Quei pugni Come fanno Come fanno Come fanno Godo L'hanno ammazzato Mega Godo Ok Lo doubt Decisamente migliore adesso Ma comunque Niente Deagle Porco due Nah Assurdo Assurdo Ecco dove cavolo stava Dicevo io Ma questo dove sta Ha fatto la skype Se non posso nemmeno buttarlo giù Questo è il bello E non pensavo facesse tutto quel cacchio di danno Il potere di magneto ai veicoli Ok Ecco il tipo qua Dai muori Non ci voglio credere Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va Muori 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 Dove stavano tutti quanti adesso Scusa ho fatto 78 a quel tipo e poi Eccolo qua Dai che sei un bot Madonna che schifo che ti andrà a sta mitraglietta 30 30 30 E lui invece mi fa 200 miliardi Godo Aiuto 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 Mi chiudi Puoi morirci Come ha fatto a prendermi Come ha fatto a prendermi No io ti giuro Come ha fatto a prendermi questo qua Se vabbè Adesso non mi lascerà mai andare via No perché Forse io Madonna lui esce qua il suo bozzo del cazzo Incredibile 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 Questa stagione La cosa più brutta che abbiano mai fatto Nella vita Che si sono del